Sì, buonasera, mi scusi, sono un operatore 218, volevo solo solidarizzare con il vostro collega, con quello di Piazza Limonda, perché è stato poverino, sfortunato e comunque solidarizzare con lui, perché non c'entra niente tutto questo casino. Signora, la ringrazio del pensiero, è molto gentile e anche a lei, le auguro tanto. E anche per voi ovviamente. La ringrazio signora. Grazie a tutti. Buonasera.